Vediamo la nostra seconda tecnica, la Tecno Mud, che consiste nella tecnica dove utilizzo per step. Utilizzo generalmente il mio bicchiere di servizio Cal Juice, vado ad aggiungerci la parte che deve essere pestata in questo caso il lime, zucchero in canna, non vado a pestare fermo sul top ma su uno spazio solido. Il mio top è in movimento, non può essere sopportato bene, lo faccio a bordo della mia specie. Cerco di pestare sul lime, vado di solito generalmente a cromare con un ghiaccio spittato e poi andrò ad aggiungere il mio spirito che può essere lungo quando ci sono altre cose.